Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere come inserire un breadcrumb in Wordpress senza plugin. In un video di qualche giorno fa, che puoi trovare suggerito qua sopra, ho parlato un pochettino di quella che è l'importanza dei breadcrumb e dei vari metodi per aggiungere un breadcrumb al tuo Wordpress. Nel video di oggi voglio farti vedere un tutorial pratico di come è possibile andarlo a inserire mettendo mano al codice, quindi senza appunto la necessità di utilizzare i plugin e andare ad appesantire magari quella che è la nostra struttura del nostro Wordpress. Non perdiamo quindi altro tempo adesso e andiamo direttamente a vedere come si fa nella parte tecnica. Bene, come prima cosa apriamo quello che è il nostro sito appunto su cui andremo a lavorare e andiamo a vedere un pochettino dove decidiamo di mettere il nostro breadcrumb e appunto quindi dove si visualizzerà e dove possiamo un attimino testare e vedere determinate pagine. quindi andiamo per esempio sulla pagina di esempio, in questo caso abbiamo utilizzato un tema che non ha il breadcrumb volutamente, come ho detto invece in altri video, nel video che ho suggerito prima ci sono molti temi oggi che hanno breadcrumb già di default, quindi andiamo a vedere appunto questo esempio in particolare, ci colleghiamo al nostro client ftp, andiamo dentro la cartella vpcontent, andiamo dentro la cartella temi, ricordo che appunto non stiamo costruendo, non stiamo utilizzando un plugin ma ci serviamo di codice nostro per andare a creare il nostro breadcrumb. io per questo esempio ho creato un tema child del tema 2017 di wordpress, ti consiglio comunque sempre di lavorare con un tema child del tuo tema, di modo che appunto se apporti modifiche non vengano sovrascritte ogni volta che aggiorni il tema, perché è bene tenere aggiornato il tema. Bene, e i passaggi che all'interno servono per creare il breadcrumb sono il primo, sono tre step, il primo è quello di creare la funzione, e ora prendiamo il codice e lo andiamo un attimino a vedere, quindi ci grechiamo dentro al nostro file function, apriamo il file function e creiamo la nostra funzione che ho chiamato con un prefisso, tanto per dare un nome sempre personalizzato alle funzioni, l'ho già detto più e più volte nei video presenti sul mio canale, ti consiglio sempre di personalizzare la funzione dando un prefisso che usi sempre per le tue funzioni e poi dando un nome che più o meno diciamo rimanda a che cosa farà la funzione, in modo che quando il file function sarà completo, sarà pieno di codice, a colpo d'occhio riesci più o meno a capire che cosa faranno le singole funzioni. Bene, questa funzione molto banalmente va a stampare come prima parte del nostro breadcrumb il tasto home, quindi il link della home page che sarà sempre la prima parte del breadcrumb e successivamente se sono presenti le categorie andrà per esempio a stampare quelle che sono il nome della categoria, successivamente il titolo magari dell'articolo, se siamo all'interno degli articoli o se siamo all'interno di pagine andrà a stampare quello che è il titolo della pagina, tutto questo per far vedere appunto qual è la navigazione e abbiamo anche preparato una diciamo un breadcrumb per quando effettuiamo una ricerca all'interno di WordPress così che se ricerchiamo venga stampata anche la ricerca. Quindi salviamo il file function e a questo punto abbiamo creato soltanto la funzione e adesso per praticità poi tu puoi scegliere dove andare a visualizzare questo breadcrumb. Noi adesso per visualizzarlo decidiamo di visualizzarlo all'interno del sottomenu quindi quello che dovremmo andare a prendere e sovrascrivere è il file del file header del tema, quindi per sovrascrivere e anche questo l'ho già fatto vedere in altri video, dobbiamo prendere il file header del tema genitore e portarlo all'interno del nostro tema child. Se avessi voluto fare il display del breadcrumb per esempio solo negli articoli dovresti andare a sovrascrivere quello che è il template dei singoli articoli che è single php. Altra cosa se vuoi per esempio fare il display solo all'interno delle pagine dovresti usare page php quindi delle pagine singole il template page php. Torniamo quindi all'interno del nostro tema child e andiamo a copiare e a sovrascrivere il nostro file header. A questo punto un altro passaggio un altro step in più, questo poi è totalmente un esempio, è quello di andare a stilizzare il tuo breadcrumb quindi io ho preparato un po' di stile, andiamolo ad aggiungere nel nostro style css e molto semplicemente abbiamo una classe dove diamo un po' di padding, diamo un pochettino di margini, diamo un colore di sfondo e mettiamo anche il bordo diciamo arrotondato, ma queste sono scelte tue personali, questo è soltanto un esempio e diamo anche una stilizzazione a quelli che sono i link. Quindi salviamo anche qui e adesso abbiamo il nostro foglio di stile aggiornato. L'ultimo step è abbiamo preso il nostro file header.php perché abbiamo deciso qua di mostrare tutte le pagine e quello che andiamo a fare è andiamo a invocare la funzione che abbiamo scritto prima nel function, come? In questo semplice modo. Quindi ci copiamo all'interno del nostro file header, cerchiamo poi una posizione, poi anche qua appunto questo è soltanto un esempio, qui sotto diciamo quella parte di navigazione, quindi la parte di menu, ho deciso di stampare il breadcrumb. Andiamo un attimo a stamparlo per vedere cosa viene fuori e come eventualmente lo possiamo aggiustare. Andiamo ad aggiornare la pagina di esempio, per esempio, ed ecco che abbiamo il nostro breadcrumb. Andiamo a cercare magari un articolo, se lo troviamo, se no ci lo diamo un attimino, ecco abbiamo l'articolo, gli articoli recenti, siamo per esempio in un articolo che è senza categoria, però è una categoria di WordPress e abbiamo il breadcrumb delle nostre categorie. Quindi se andiamo su senza categoria possiamo vedere la nostra categoria. Vediamo un attimino se facciamo anche una ricerca cosa succede, per esempio, e abbiamo search results for prova. Quindi abbiamo sempre il breadcrumb relativo a quello che abbiamo ricercato o a dove stiamo navigando appunto. Quindi siamo magari nello shop, nella pagina lo shop non viene visualizzato perché viene considerata l'home page, quindi nella pagina appunto, già in una pagina interna o in un'altra pagina possiamo visualizzare appunto anche nel carrello, in tutte le pagine possiamo visualizzare il breadcrumb. Se vogliamo dare magari un'aggiustatina a livello grafico, io ricordo questo qui vuole essere soltanto un esempio, però quello che possiamo fare per esempio è prendere e dare la stessa distanziamento che ha il menu. Quindi cerchiamo di, vediamo se riusciamo a renderlo un pochettino più appetibile agli occhi, giusto perché l'occhio vuole anche la sua parte. Vediamo se riusciamo a metterlo un po' più allineato, esatto. Con questa stilizzazione siamo riusciti quindi a, per esempio, a centrarlo. Poi un'altra cosa che ti voglio far vedere è il background, è un background che ho scelto io, le distanze le ho scelte io, quindi questo è soltanto un esempio. L'importante è vedere come poter creare un breadcrumb. Allora voglio dirti che intanto troverai tutto questo codice qua sotto in descrizione, quindi stai tranquillo che non ti perdi nulla. E per fare un brevissimo riassunto, i passaggi sono nel file function del tuo tema, la funzione che, diciamo, stampa, va a stampare il breadcrumb, quindi l'home page, le categorie, la ricerca, il titolo dell'articolo della pagina dove sei, quindi titolo dell'articolo, titolo della pagina, quindi a seconda di ogni pagina viene visualizzato che cosa, dove siamo, in che posizione siamo. Successivamente un po' di, diciamo, di stilizzazione perché l'occhio vuole la sua parte, quindi anche questa io la metterò qua sotto in descrizione ma ovviamente è a tuo piacimento. E passaggio definitivo, andiamo a sovrascrivere il template interessato, quindi nel caso nostro abbiamo scelto leader e andiamo a invocare molto semplicemente la funzione, ecco non l'abbiamo fatto vedere prima, ma molto semplicemente tramite php andiamo a invocare la funzione mrc get breadcrumb che è quella che abbiamo inserito all'interno del nostro file function. Naturalmente inseriamo div, classi e quant'altro ci può servire per renderlo graficamente uguale e appetibile con il nostro tema e il gioco è fatto. Quindi direi che per quanto riguarda il breadcrumb è tutto. Bene, hai visto come con poche righe di codice è possibile andare a inserire il nostro breadcrumb senza appunto la necessità di utilizzare plugin, come ho detto all'inizio di questo video. Io spero che sia tutto chiaro e che non ci siano dubbi per te, se così fosse invece ti invito a scrivermi qui sotto in modo che ti possa rispondere, ti possa dare una mano e comunque se questo video ti è piaciuto metti mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!